salve a tutti e benvenuti nel rifugio ragazzi topolino che mi arriva di lunedì il numero 3597 mi è arrivato oggi e quindi è una cosa epocale che va celebrata assolutamente sul mio canale e quindi me lo spolperò subitissimo e vi farò il video che uscirà direttamente tra qualche ora quindi topolino 3597 sul canale il rifugio di michele lm di lunedì ragazzi eccoci qui dunque con topolino 3597 con questa bellissima cover disegnata da paolo mottura e colorata da mario perrotta che si rifà una storia contenuta all'interno di questo albo vediamo un po il logo però giacomo puccini centesimo anniversario che come vi dico sempre ecco a me non piacciono i loghi messi diciamo sulle copertine loghi streglie e così via vanno un po a impoverire ecco questa questa copertina però per il resto davvero è bellissima adesso la vedremo anche in versione sketch cover voglio giusto anticiparvi ragazzi che questo video sarà completamente privo di spoiler in realtà quasi tutti i miei video sono privi di spoiler però in questo caso i video dedicati al topolino in questo caso cercherò di fare ancora più attenzione dato che è lunedì quindi se avete la curiosità di guardare le storie è giusto sapere cosa ne penso potete guardarlo semplicemente tranquillamente però se volete andare direttamente a fine video dove darò ecco la mia conclusione il mio giudizio finale della mia classifica sulle storie vediamo la pubblicità delle carte piacentine che usciranno settimana prossima in un'unica uscita ragazzi curate da enrico faccini quindi un gadget che io prenderò assolutamente perché non è una cosa diciamo usuale far uscire sempre questo tipo di carte noi siamo abituati sempre alle solite carte con i semino da scala 40 mentre qualche anno fa sono uscite le carte napoletane riblasco pisapia e adesso escono le piacentine quindi un'ottima notizia speriamo che prima o poi ripeteranno questo questa occasione ecco per far uscire anche altre tipologie di carte regionali vediamo il che retira topolino con topolino che sarebbe meglio se chiamasse orazio invece di tentare lui stesso di aggiustare il lavandino di minni e vediamo l'editoriale di alex bertani il direttore che in questo caso questa settimana parla molto di look ovviamente ci sarà lui ci saranno i vari autori ci dice anche che sarà possibile ecco fare una singing session con gli autori però non ci spiega che io ho provato in tutti i modi ma non è stato possibile praticamente tramite la piattaforma even bright tramite l'applicazione di lucca comics è stato praticamente impossibile per me per notare per lorenzo pastrovicchio andrea freccero insomma gli artisti che mi sarebbe piaciuto incontrare e quindi non potrò farmi firmare nulla purtroppo e in questo editoriale appunto ci dice anche che ci saranno un sacco di volumi in fiera dedicati a pk gli evaporati e così via e anche ovviamente al connubio disney marvel e vediamo la sketch cover ragazzi guardate che bella così pulitessima senza luoghi senza strelli di paolo mottura wow spettacolare direi adesso però di iniziare subito con la prima storia dell'albo la storia evento fatta dal dinamico duo ormai consolidato bruno è nei testi davide cesarello ai disegni con i colori di rene fornari qui unirene fornari ragazzi ve lo dico subito spettacolare ci sono delle sfumature già dalla prima tavola guardate che sfumature di colori dal rosso al blu diventando violetta guardate bellissima ragazzi la storia inizia non in un ipotetica topolinea di un'altra dimensione come poteva essere la storia degli evaporati ma nella nostra topolinea nel kansas più precisamente dai parenti di orazio ovvero gli zii vanda e carpazio e vediamo che c'è anche orazio qui in vacanza da loro che sta cercando di sistemare la miti trebbia e però succede qualcosa di strano ovvero un incontro ravvicinato con queste luci particolari che una volta che fanno svenire orazio scompaiono e fanno lasciare dietro di esse dei cerchi nel grano quindi ragazzi si preannuncia già questa storia avere a che fare con alieni con complotti anche perché vedremo una sorta di man in black e tutto ciò che ha a che fare appunto con questa questa tematica quella dei cerchi nel grano dei incontri ravvicinati con gli alieni e così via non voglio svelarvi altro di questa storia ma già come primo episodio nonostante io sia partito un po pregiudizievole perché ce ne saranno sei di episodi devo dirvi che già questo primo episodio mi è piaciuto tantissimo e mi lascia quella sensazione di di ansia di inquietudine tipica delle serie tv come quella degli anni 90 come x files oppure come fringe più negli anni 2000 insomma lascia davvero quel quella sensazione di inquietudine che però ti sale fino al livello in cui hai bisogno di sapere come prosegue la trama come prosegue la storia qui i disegni di davide cesarello mi sono sembrati davvero molto ma molto maturi molto simili nel tratto a ciò che era lo stile di massimo devita davvero già con le top stories ha dato modo di di dimostrarsi degno erede di massimo devita davide cesarello e con questa storia già da questo primo episodio ancora di più ragazzi ancora di più alcune espressioni sono tipiche di devita però posso già dirvi che lo stile sta diventando sempre più personale e quindi davvero un plauso anche a davide cesarello vedremo dei personaggi che si rifanno nel look addirittura da attori famosi possiamo vedere questo personaggio che assomiglia molto a leonardo di moi no il vecchio attore di spock di star trek non vi voglio dire altro ragazzi vi dico solo che questa storia già come prima puntata parte davvero bene speriamo che le prossime non ci annoieranno che sapranno raccontarci diciamo sempre di più fino a all'apice fino alla conclusione comunque già questa prima puntata ci lascia con un bel cliffhanger finale proseguiamo poi con gli allegri mestieri di paperino una lieve influenza di tito faraci e testi enrico faccini ai disegni con i colori di debora grazio e vediamo qui ovviamente paperino alle prese con uno degli innumerevoli lavori che li propinerà lo zio paperone in questo caso però paperino farà l'influencer l'influencer però in una maniera un po' particolare non vi voglio svelare altro voglio solo specificare questi disegni davvero molto molto belli enrico faccini con queste vignette che si rifanno molto no alle schermate in verticale che possono essere i shorts di youtube i reel di instagram oppure i video di tiktok praticamente quindi una storia all'insegna dei social molto molto divertente e non è nemmeno così lunga una storia breve che sicuramente saprà strappare un sorriso a molti vediamo poi uno speciale lucca comics con la cover variant di questo numero il 3597 ad opera di florian satzinger un autore austriaco e qua possiamo vedere i passaggi della lavorazione una cover che a me piace ho visto sui social che non ha suscitato molto successo però a me piace molto e poi sarà con sovracoperta quindi come quella di silvio camboni uscita un paio d'anni fa quindi davvero molto molto interessante vediamo poi in anteprima i what if in formato spillato con what if paperino diventa thor di lorenzo pastrovicchio e paperino diventa wolverine di giada per il sinotto quindi la bellissima coppia anche nella vita reale pastrovicchio per il sinotto qui alle prese con queste cover io questi due spillati li prenderò solo che non mi ricordo se li ho prenotati già in fumetteria se li ho prenotati in fumetteria ovviamente non li prenderò al look abbiamo poi un'altra anteprima per la cover del numero successivo numero della settimana prossima il 3598 con questa cover di gabriele dell'otto un illustratore italiano diventato famosissimo anche all'estero grazie alle sue cover per i volumi marvel e dc quindi davvero e anche per star wars e ragazzi quindi davvero un grandissimo autore e vediamo questo questo quadro è davvero un quadro bellissimo che sarà la copertina variant del 3598 abbiamo poi un altro articolo dedicato a lucca comics con i vari autori che sarà possibile incontrare solo per chi è riuscito a prenotarsi ma penso davvero poca gente perché ormai la piattaforma online di even bright è stata a salita dei bagarini e potete fare semplicemente una ricerca su ebay per trovare le prenotazioni a partire da 100 euro in su quindi io spero che rimangano tutte sul gruppone però a questo punto che cosa succederà non ci sarà nessuno alle signing session non lo so comunque io proverò a andare ad affacciarmi al meno da lorenzo pastrovecchio se riesco o davide cesarello vediamo un po quello che riesco a fare e poi c'è una checklist con tutti i volumi che saranno presenti a lucca a me interesseranno ovviamente le due variant di topolino mi interessa lo speciale la deluxe di pk rinascita metallo pesante però la prenderei solo se riuscissi a farmela firmare o schiacciare da pastrovecchio altrimenti la prenderei dal sito panini così come prenderò dal sito panini l'omnibus numero 3 inutile comprarlo in fiera e poi farmi tutta la fila di lucca con questo mattone sulla schiena nello zaino proseguiamo poi con manetta il procrastinatore di giovanni ecchera i testi blasco pisapia ai disegni con i colori di chiara bonacini vediamo come manetta è un tipo d'azione come lo conosciamo bene però non è tanto tipo da scartoffi e quindi quando dovrà redigere un verbale per quanto riguarda l'arresto di gamba di legno ecco si dilungherà un pochino troppo e non vi voglio svelare altro la storia è esilarante i disegni di blasco pisapia sono molto classici però con quel suo stile particolare che è riconoscibilissimo i colori di debora grazio sono scusate i colori di chiara bonacini sono in questo caso abbastanza lineari appunto per farci trasmettere una storia dei temi più classici molto particolare molto carino vediamo poi l'articolo sulla rubrica fumettando di francesca grati che continua con il profilo di macchia nera di paolo mottura anche disegnare un semplice mantello non è così semplice e poi anche disegnare i volto di macchia nera insomma non è non è una passeggiata proseguiamo qui con zio paperone è l'opera in attesa di alessandro sisti ai testi simona capovilla ai disegni con i colori di andrea stracchi bellissimo il ritorno di andrea stracchi su topolino e questa storia ragazzi all'inizio l'avevo presa un po come una solita storia che pubblicizza che celebra l'occasione appunto dal centenario di di puccini in questo caso però la storia avrà delle pieghe inaspettate e che mi faranno faranno emozionare penso tutti voi che la leggerete o meno a me ha suscitato queste emozioni ritroviamo il duo italiano a cui appunto abbiamo imparato a conoscere nelle vecchie storie precedenti che sono uscite su topolino riguardanti i vari personaggi storici in questo caso però se non mi ricordo male prima venivano storpiati i nomi tipo di leonardo se non mi ricordo male invece in questo caso puccini non viene storpiato e vedremo un finale davvero da emozioni pure non vi voglio dire altro ragazzi su questa storia anzi saltiamo subito a piepare non mi voglio svelare nulla e poi abbiamo un bellissimo articolo ovviamente dedicato al maestro vediamo poi anche la pubblicità sul topolibro che esce sempre legato a questo topolino e poi abbiamo l'ultima storia dell'albo abbastanza lunga anche zio peperone alla ricerca della melaurea perduta di matteo venerus ai testi già da perissinotto i disegni con i colori di irene fornari ragazzi qui questa storia davvero sembra una storia uscita dagli anni 90 e ciò non è un male assolutamente anzi vedremo zio peperone che alle prese sempre con una solita sfida contro rocker duck cercherà di trovare questo frotto proibito particolare ecco dai accostamenti anche biblici potremmo dire vedremo come questa avventura lo porterà a una caccia al tesoro davvero particolare i disegni di giata perissinotto sono spettacolari ricchissimi di dettagli e anche gli outfit sono particolari guardate che bello battista vestito così con questa salopetta gli occhiali da sole quando va a fare la spesa al mercato davvero spettacolare ma lasciando perdere i disegni che in realtà non è che bisogna lasciarli perdere perché guardate davvero è una cosa incredibile dettagliatissimi spettacolari in ogni vignetta i colori qui di rene fornari sono meno diciamo spettacolari nel senso letterale della parola così come abbiamo visti nella prima storia dedicata a 500 piedi ma in questo caso tendono a essere appunto più quasi spenti potremmo dire per quanto riguarda i ricordi ovviamente ci sono un sacco di flashback in questa storia mentre poi si accendono e diventano davvero molto colorati quando si passa nel presente e con queste ambientazioni bucoliche che insomma fanno proprio il palo con il discorso del tema principale della storia che sarà molto potremmo dire agricola come storia davvero sono azzeccatesimi anche qui non vi voglio svelare altro vi dico solo che mi ha ricordato molto le storie di rodolfo cimmino quindi davvero già che dico cimmino dico che è una storia validissima abbiamo poi un'anteprima delle carte piacentine di Enrico Faccini con un'intervista all'autore dove vediamo come sono stati diciamo fatti i vari semi delle delle carte i protagonisti vediamo zio paperone re di denari topolino re di spade gamba di legno re di coppe e rockardac re di bastoni e così via poi la posta dei lettori con anche i disegni dei lettori bellissimi bellissimo questo paperinic di riccardo phil che è un autore di disegni che conosco perché sui vari social dedicati ai fumetti disney ha già pubblicato varie volte i suoi disegni davvero molto molto bravo poi abbiamo in edicola questa settimana ma ci sarà il mondo perché ci sarà il look e l'anticipazione del prossimo numero con la variant ovviamente di dell'otto e non si sa come sarà la regolar che sarà ambientata praticamente sarà relativa alla storia 500 piedi e le storie saranno la notte dei barcollanti di circus finalmente ritorna circus con due episodi sullo stesso numero sarà anche protagonista della cover variant circus quindi zio paperone le copie ripetizione di aril mirtun paperino il debito definitivo 500 piedi cerca tra i cerchi davvero bello come titolo episodio 2 di 6 e paperoga pasticci d'autore affarone e le carte da gioco piacentine che io prenderò chiude l'albo buzzuri si nasce dinamita si diventa con la colazione mi ha fatto morire qua dinamita sembra che stia leggendo un giornale ma in realtà è il suo tovagliolo ragazzi che dire di questo topolino 3597 un numero che mi è piaciuto tantissimo a cui io voglio dare un bel 9 pieno ragazzi 9 pieno e se devo fare la mia solita classifica metterei al quinto posto perché abbiamo sempre 1 2 3 4 5 storie al quinto posto gli allegri mestieri di paperino una lieve influenza che comunque è abbastanza breve come storia divertente ma non ha lo stesso peso delle altre ma non perché sia così brutta anzi ho preferito semplicemente le altre al quarto posto manetta il procrastinatore al terzo posto sono indeciso tra zio paperone l'opera in attesa zio paperone la ricerca della melauria perduta ecco le metterei quasi a pari merito al terzo posto al secondo posto metterei anzi al secondo posto insomma una delle due e quindi tra terzo e secondo posto vabbè dai mettiamo zio paperone alla ricerca della melauria perduta al terzo e zio paperone l'opera in attesa al secondo perché mi ha dato quella quella scintilla di più al cuore a primo posto ragazzi il primo episodio di 500 piedi perché la sensazione di di ansia inquietudine che mi ha lasciato e la curiosità di sapere come andrà avanti la storia mi ha colpito davvero tanto quindi questo è il topolino 3597 fatemi sapere cosa ne pensate voi ovviamente quando lo avrete letto perché si parla meno che tra due giorni lo leggerete però fatemi sapere appunto cosa ne pensate appena l'avrete letto io con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao